Contrari, 2. Benissimo. Posso andare al punto 9. Approvazione, bilanci e previsioni armonizzato 2020-2022, relative legate a note di aggiornamento al documento unico programmazione DUP 2020-2022. Chi illustra? Io. Prima di procedere all'illustrazione però ci terrei a sottolineare la mia indignazione sul fatto che al momento dell'approvazione del più importante documento per l'amministrazione comunale l'aula sia, l'aula, i posti del pubblico siano vuoti, non perché erano vuoti sin dall'inizio ma perché si sono svuotati a seguito di comportamenti tenuti qua dentro che erano inappropriati. Ci ho detto? Quindi abbiamo privato la cittadinanza? Abbiamo privato la cittadinanza? Vabbè, lasciamo perdere. Ci ho detto? Allora, il bilancio preventivo che io presento lo presento in quanto assessore delegato alla materia ma è il risultato di un lungo lavoro svolto tutti assieme nell'amministrazione, fra i vari assessori con la maggioranza e anche grazie alle competenze e le capacità dei tecnici. Visto che non siamo tutti quanti avezzi a questi documenti, faccio una piccola introduzione. Allora, il bilancio di previsione non è una cosa a sé stante ma è un tassello all'interno di tutta una serie di strumenti, all'interno dell'agire dell'amministrazione comunale che si basa sostanzialmente su due principi, il principio della programmazione e del controllo, dove programmare sta a significare cosa si vuole fare, come e quando, si intende realizzarlo e dove controllare significa esaminare i risultati conseguiti per confermarli o correggerli o correggere le decisioni assunte precedentemente. Questo lavoro di programmazione e controllo è un continuo scambio fra la parte tecnica e la parte politica dell'ente. Per quanto riguarda il bilancio, noi sappiamo che la spesa pubblica è strutturata in spesa corrente, cioè quelle risorse destinate al funzionamento dell'amministrazione pubblica e all'erogazione dei servizi. Nella spesa corrente abbiamo anche la spesa per gli interessi e la quota capitale dei prestiti, mentre per quanto riguarda la spesa in conto capitale abbiamo quelle risorse destinate agli investimenti durevoli e a lungo termine. Nel realizzare il bilancio abbiamo individuato tutta una serie di aree in cui intervenire. In particolar modo ce ne sono tre in cui abbiamo cercato di concentrare maggiormente i nostri sforzi perché riteniamo di cruciale importanza e sono i servizi, la promozione del territorio e l'educazione. Per quanto riguarda i servizi, nel bilancio di previsione 2020 avremo un mantenimento, tanto nella tipologia quanto nella quantità, di tutti quanti i servizi che il Comune di Castelnuovo Monti eroga al cittadino, nonostante vi sia un persistente andamento decrescente dei trasferimenti correnti da parte dello Stato centrale. Per quanto riguarda la promozione del territorio, in virtù dell'ottima e fruttuosa collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con l'Associazione del Centro Storico, abbiamo ritenuto corretto e utile e fruttuoso implementare le risorse dedicate alle manifestazioni turistico-sportive, le quali, come vedete nella slide, comprendono non solo quanto organizzato sul capoluogo ma anche la città SLO a Felina e abbiamo portato i capitoli in questione alla cifra di 200.000 euro. Entro questi 200.000 euro non sono compresi tutti quei servizi che l'amministrazione rende agli organizzatori e agli utenti delle manifestazioni che vengono elargiti pressoché gratuitamente. Sono stati stanziati 50.000 euro per l'organizzazione delle fiere dei mercati, si prevede un'assunzione di un nuovo funzionario che si occuperà anche di quegli aspetti più tecnici legati al commercio, ai bandi sul commercio e all'organizzazione delle manifestazioni. È stato un aumento dei contributi alle associazioni sportive e verranno posti in essere nel 2020 alcuni interventi di ristrutturazione come ormai i prassi. Tutti gli anni si fanno dei piccoli interventi sugli impianti sportivi per riamodernarli sostanzialmente. L'ultima area di intervento che abbiamo ritenuto principale e sicuramente a mio parere anche la più importante per tutti è quella dell'educazione. Vediamo che l'ente comunale ha partecipato alla statizzazione dell'istituto per i Merulo. Nel bilancio 2020 confermiamo il contributo che l'ente dà all'istituto musicale di 50.000 euro. Si continua nell'attuazione delle misure a favore dell'educazione contenuta nella strategia nazionale aria interna. Adesso io scorro tutto molto velocemente, poi dopo potete fare le domande, ci sono anche gli assessori competenti che possano entrare più nel dettaglio. Grazie a dei fondi regionali abbiamo potuto abbattere le rette dell'asilo nido, abbattute per tutti e con particolare intensità per i redditi inferiori ai 26.000 euro, scusate, per le dichiarazioni ISE inferiore ai 26.000 euro. Per il 2020 si prevede di rinnovare la convenzione che noi abbiamo con l'asilo Mater Dei e con l'istituto comprensivo e nel rinnovo prevediamo anche di aumentare il contributo erogato, sarà una convenzione triennale in cui aumenteremo di circa 10.000 euro entrambe le convenzioni, 10.000 euro spalmati ovviamente su tre anni. Poi una misura di cui personalmente vado molto fiero anche perché è frutto di uno sforzo compiuto da tutti, da tutti gli assessori e dall'intera amministrazione, è quella dell'abbattimento delle rette per la scuola materna comunale. Noi con fondi recuperati all'interno del bilancio comunale abbatteremo le rette per un 30%, per un valore pari al 30%, a partire dall'anno scolastico 2020-2021. Infine, per quanto riguarda gli investimenti, vediamo che abbiamo un valore complessivo di più di 8 milioni e mezzo di euro perché si prevede il rifacimento della scuola primaria della Pieve, rifacimento della scuola dell'infanzia della Pieve ed inoltre il riefficientamento energetico della scuola media Bismantova, che poi vedremo dopo quando esplorò la parte degli investimenti. Gran parte di questa somma di 8,6 milioni di euro è frutto di contributi vincolati che vengono dall'esterno, quindi è molto importante queste misure. Per quanto riguarda le cifre, noi abbiamo la somma tra entrate corrente e entrate in conto capitale e le relative uscite di circa 27 milioni e 400 mila euro, abbiamo 10 milioni e 800 mila euro di entrate correnti, 10 milioni e 397 mila euro di entrate in conto capitale e vedete che per quanto riguarda le spese, le spese in conto capitale sono 10 milioni e 200 mila euro circa, abbiamo una quota di rimborso prestiti pari a 860 mila euro, e qui sto parlando della quota capitale, e le spese in conto capitale per 16 milioni e 300 mila euro circa. Le entrate correnti, vedete che qui le ho disaggregate in modo tale che si potesse vedere l'apporto dei singoli titoli, abbiamo il titolo primo che sono 7,8 milioni di euro, pari circa al 73%, il titolo secondo circa 650 mila euro, sono 6%, e il titolo terzo 2 milioni e 300 mila euro per circa il 21,5%. Il titolo primo è il titolo che riguarda le entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa, abbiamo un addizionale IRPEF, adesso io qui elenco le maggiori, non sto a elencare tutto quanto, perché altrimenti sarebbe superfluo, abbiamo un introito dall'addizionale IRPEF di circa 1 milione e 200 mila euro, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti circa 2 milioni e 400 mila euro, per quanto riguarda l'IMU 3 milioni e 100 mila euro circa, e continueremo a portare avanti l'importante lavoro che è stato svolto negli anni passati sull'evasione, sul recupero dell'evasione, sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la TASI, sfiorando quasi 500 mila euro, e inoltre abbiamo 468 mila euro derivanti dal Fondo di Solidarietà Comunale. Il titolo secondo riguarda i trasferimenti dagli enti superiori, qui non li ho elencati tutti, ho elencato i principali, avremo il contributo statale per il ristoro in MUTASI circa 90 mila euro, altri 91 mila euro tra i contributi statali e ministeriali, 200 mila euro dei contributi dal centro servizi energetici, poi abbiamo il contributo sistema integrato di educazione e istruzione, sono 52 mila euro, qui una parte verrà utilizzato per abbattere le reti dei nidi, una parte per finanziare l'innovazione del sistema pedagogico e una parte per altri progetti innovativi sulle scuole. Abbiamo trasferimenti dall'Unione per circa 62 mila euro, poi dopo i principali abbiamo il contributo per la strategia delle aree interne, 15 mila euro, questo è un rimborso di personale, 27 mila euro dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Merolo, anche qui personale, contributi dell'Unione Europea, 15 mila euro per gli scambi internazionali e altri 9 mila euro sulle barriere architettoniche, un contributo regionale. Per quanto riguarda le principali entrate extra tributarie, cioè tutto ciò che non appartiene agli altri due titoli sostanzialmente, abbiamo proventi per i servizi cimiteriali, trasporto funebre, illuminazione votiva, inumazioni ed esumazioni per circa 122 mila euro, precisamente 34 per il trasporto funebre, 38 per l'illuminazione votiva e 40 per le esumazioni. I proventi dei parcheggi a pagamento 80 mila euro, i proventi dei centri sportivi e le palestre 37 mila, la farmacia comunale, ci conferisce un canone annuo di 165 mila euro, si prevede. E' fisso questo? Il canone occupazione spazi e aree pubbliche, cioè il suolo pubblico, 96 mila euro, 100 mila euro di concessione di beni patrimoniali, sostanzialmente questi sono i loculi cimiteriali, i proventi derivanti dalla concessione delle strutture socioassistenziali, 250 mila euro, questi sono i proventi derivanti dalla concessione dell'RSA e da Vile delle Ginestre, i sovraccanoni delle concessioni per le grandi deviazioni acqua di produzione di forza motrice, sono i bacini in briferi montani, sostanzialmente circa 64 mila euro, 61 mila euro di sanzioni amministrative per le ordinanze, 125 mila euro di sanzioni amministrative al nuovo codice della strada, utili dividendi, principalmente derivanti dall'azione IRENA che ancora possediamo, 63 mila euro, il rimborso di altro personale in comando, oltre a quello che avevo detto prima, 310 mila euro, e rimborsi e recuperi attraverso il servizio sociale unificato, anche qui si tratta sostanzialmente di rimborsi per personale in comando. Ci tengo a sottolineare che tutti questi proventi, rispetto a quelli degli anni passati, in particolar modo le sanzioni del codice della strada, le ordinanze non sono state aumentate. E per quanto riguarda i parcheggi a pagamento vedrete un aumento rispetto al 2019 di circa 8 mila euro, non perché è stata aumentata la tariffa oraria di parcheggio, ma perché sono stati aumentati i parchimetri in quanto è stato reso pagamento anche il parcheggio di Piazzale Dante alla Pietra. Per quanto riguarda le spese correnti, abbiamo 10 milioni e 222 mila euro di spese correnti, 2 milioni e mezzo circa di redditi da lavoro dipendente, circa 180 mila euro di imposte e tasse a carico dell'ente, 4 milioni e 350 mila euro in beni e servizi, 2 milioni di trasferimenti correnti, 129 mila euro circa di interessi passivi e altre spese correnti che sono circa un milione di euro. Qui vi ho messo i dati di prima con le percentuali indicati per macro aggregati, quindi possiamo notare come la voce preponderante sia sostanzialmente quella dell'acquisto dei beni e dei servizi, circa il 42%, 20% di trasferimenti e 25% di redditi da lavoro dipendente. Sempre le stesse spese correnti qui sono indicate per missioni e abbiamo un 20% di servizi istituzionali generali di gestione, un 22% vedete in ambienti a tutela del territorio, poiché qui è ricompreso non solo la gestione del verde pubblico, eccetera, ma anche i rifiuti. Quasi un 15% sulle politiche sociali e della famiglia, fondi e accantonamenti per circa il 7,70%, è un debito pubblico che incide sulle spese correnti per circa dell'8,75%. Adesso non sto a delencare tutto perché effettivamente sono tante, però turismo il 2,75%, i trasporti e la mobilità al 7%, quasi il 4% sull'istruzione, il 4,20% sulle attività culturali, il 2,5% sull'ordine pubblico e la sicurezza. Per quanto riguarda l'indebitamento, un parametro fondamentale è quello indicato dall'articolo 204 del Tuel, dove sostanzialmente si dice che l'importo annuale degli interessi che vengono sostanzialmente pagati dall'ente non deve superare il 10% delle entrate correnti relative al rendiconto del penultimo anno precedente. Sostanzialmente il nostro comune ha un limite di spesa annuale, secondo questo parametro, per interessi di circa un milione di euro. Noi si prevede di spendere al 31-12-2020 circa 129 mila euro e sia ancora un ammontare disponibile per nuovi interessi di circa 900 mila euro. L'evoluzione del debito pubblico, negli ultimi, qui vedete il debito pubblico dal 2009 ad oggi, nel 2009 vi era un debito pubblico di circa 12,1 milioni di euro che è andato costantemente calando, attualmente al 31-12-2019 si prevede, anzi sicuramente, scusate, sicuramente avremo 5 milioni e mezzo di debiti e qualora negli anni futuri non si acceda ad altri prestiti, si prevede un calo del debito che sarà sotto i 3 milioni di euro nel 2022. Questo ha situazione invariata. Cioè quello che vi sto dicendo io è se tutto rimane come oggi, abbiamo questa situazione. Però alla fine di quest'anno il debito monterà a 5,53 milioni di euro. Qui possiamo vedere anche il debito pro capite, che è la terza riga della colonna. Vedete che nel 2009 era circa 1.130 euro, a fine 2019 sarà di 526 euro. E adesso noi lo abbiamo calcolato anche per il futuro. Ovviamente non sapendo quanto sarà la popolazione, abbiamo mantenuto la popolazione invariata, anche perché ci sembra credibile che sia circa così. non avrà una variazione sensibile. E se a situazione invariata, quindi se non si stipulassero nuovi muti, nel 2022 avremmo un debito pro capite di 282 euro e un tasso di indebitamento sotto all'1%. Ad oggi lo è all'1,4%, 10 anni fa era al 5%. Per cui nel corso di questi dieci anni è stata posta in essere una buona politica di riduzione del debito di cui ne vediamo anche benefici. Per quanto riguarda le rate, venendo più al concreto, per quanto riguarda le rate che annualmente verranno pagate per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, nel 2019 si è pagato circa 1.100.000 euro. L'anno prossimo si prevede di pagare tra quota capitale, quindi 860.000 euro, e quota interessi circa 128.000 euro, una rata di circa 990.000 euro, che crescerà leggermente nel 2021 a 999, per discendere nel 2022 a 924. Il tutto sempre a situazione invariata. Passando ora alla parte in conto capitale, abbiamo una parte in conto capitale entrate per 16.400.000 euro circa, di cui 6.800.000 euro di contributi vincolati, 210.000 euro di oneri di urbanizzazioni, 2.470.000 euro di alienazioni, 100.000 euro di trasferimenti immobiliari e 6.800.000 euro di apporto di capitale privato e concessioni. È interessante notare come praticamente l'84% delle entrate derivino da contributi e apporto di capitale privato, ed è un segnale estremamente positivo, questo perché se noi, anche tralasciando il capitale privato, noi vediamo che avremmo un importo, tralascio il capitale privato perché i contributi vincolati non gravano sulle opere dove c'è capitale privato. Il ragionamento che faccio è questo. Noi avremo circa 9 milioni e mezzo di opere a fronte di 6,8 milioni di contributi, significa che noi finanziamo 9 milioni e mezzo di opere con soldi del Comune per il 30% e basta. Quindi il delta è estremamente positivo. Il piano dell'opere pubblica che vi ho esposto prima, manutenzione stradale, adesso lo espongo un attimo più nel dettaglio, abbiamo una manutenzione stradale, 200.000 euro che vengono finanziati, 100.000 euro dal fondo in mutasi e 100.000 euro dagli oneri, la manutenzione straordinaria e si è stimazione del patrimonio, 220.000 euro, 50.000 euro di mutasi, 100.000 euro di oneri e 70.000 euro di alienazioni, le officine della creatività al centro culturale equivalente, 2.700.000, qui si prevede, siamo in attesa di conferma di un contributo regionale pari a un milione di euro e nel bando per la realizzazione di quest'opera sarà compreso, si prevede anche di comprendere lo stabile del giudice di pace per un valore di 700.000 euro e un milione di euro di alienazioni, pronti interventi 450.000 euro, questi qui derivano sostanzialmente dalla regione, interventi sui finanziamenti sui cimiteri comunali, 100.000 euro, la realizzazione dell'energia da fonti alternative, l'eolico della Sparavalle, 3.800.000 interamente da capitale privato, la messa in sicurezza e la demolizione con ricostruzione della scuola dell'infanzia, della Pieve, 4.800.000, che ci sono 100.000 euro di trasferimenti immobiliari, circa 300.000 euro a carico del comune e quasi 4.500.000 euro dai mutui bei e dal GSE. Questo è un contributo importantissimo perché si è sommato anche a quello già approvato l'anno scorso ma che avrà realizzato quest'anno delle scuole elementari, sforiamo ampiamente gli 8 milioni. La realizzazione del nuovo marcipiede di via Bismantova, che collega sostanzialmente l'incrocio della strada che va alla pietra con l'incrocio del bar polo, di cui quasi 4 milioni e mezzo sono mutui bei. Non si sente nulla. Non si sente. Scusate, se sommiamo quello delle scuole elementari, quali... Adesso la cifra è precisa. No, no, quali scuole elementari? Le scuole elementari della Pieve. 4 milioni e 8. Allora, le scuole dell'infanzia. Ah, ok. Ah, ok. Queste sono le scuole dell'infanzia. Ho detto le scuole elementari, scusate. Eh, no. È stato... Perché sto andando a memoria e non leggo. Le scuole dell'infanzia sono 4 milioni e 8. Ok. Poi abbiamo... Abbiamo il secondo stralcio, il secondo stralcio dell'abbattimento delle barriere architettoniche che nei percorsi del centro storico di Castelnuovo-Monte e Felina, quindi marciapiedi, quello di cui si discuteva prima, che è il secondo stralcio, per 150 mila euro. Anche qui sono fondi interamente vincolati, sono contributi vincolati, sono contributi regionali. Contributi regionali. Poi abbiamo il progetto sensibile Castelnuovo, 2 milioni e 7, che sono interamente fondi di apporto di capitale privato. L'assestimazione dell'area dell'ex cinema, con la riqualificazione delle strade circostanti, del piazzale, 500 mila euro di alienazioni, 10 mila euro di arredi delle scuole, e il riefficientamento energetico della scuola media Bismanto va per 491 mila euro e abbiamo 90 mila euro che arrivano, sono un contributo statale che viene... è un contributo che lo Stato dà alle varie fasce dei comuni a seconda della popolazione e nel nostro comune nella fascia a cui spettano 90 mila euro. Poi abbiamo 170 mila euro dal PORFESRE, che è un finanziamento europeo, e 230 mila euro dal progetto Aree Interne, per un totale di 16 milioni, 297 mila e 814 euro. Questo è quanto. Se ci sono domande... Domande? Io metto in approvazione. Ok. Quindi metto in approvazione il punto 9. Chi è d'accordo? Contrari? Due? Assenuti? Due. Grazie. Immediata esecutività. Chi è d'accordo? Contrari? Ok. Assenuti? Due. Perfetto. Grazie. Punto.